Alessandra è un nome fasullo, ma è da qualche anno che frequenta la casa delle donne, l'abbiamo davanti a noi. Dunque, in questa frequentazione, come è avvenuto il contatto con la casa delle donne? È avvenuto in base alla violenza che subivo da 24 anni in casa. Come? Scusa, non ho capito. È avvenuto in base alla violenza che subivo da 24 anni in casa. Da 24 anni? Esatto. Anzitutto, era sposata? Ero sposata, ho cinque figli con la solita persona e ho vissuto per 24 anni una violenza domestica, diciamo. Mi permette di capire. È sposata e ha cinque figli con la stessa persona e da 24 anni, ma che tipo di violenza? Violenza domestica, economica e fisica. Mi può fare qualche esempio? Sono stata sposata con una persona molto autoritaria. Ma lei è giovane, quindi non ho capito, ma a che anni, quanti anni aveva quando lei è sposato? 19 anni e mezzo. Nel 1981 ho sposato. E da lì è cominciato tutta questa cosa qui. È sempre stato un tipo molto dittatore, autoritario, possessivo, geloso. Per 24 anni ho sopportato e subito, perché, malgrado tutto, alla fine i figli ci sono stati, quindi per tutelare anche loro, ho cercato di portare sempre a barca pari in casa. Nel 2005 ho deciso di separarmi, perché non ne potevo più. E per disperazione sono capitata qua. Ecco, ma questa violenza come si manifestava? Violenza psicologica, che cosa? La prima cosa che mi è stato tolto è il denaro. La violenza economica che ho subito, perché una persona senza soldi non può fare niente, non può andare da nessuna parte. Poi quella fisica. Poi lei avendo figli poteva difficilmente lavorare, presumo? No, non lavoravo, lavorava in casa. E quindi lavorava in casa e senza soldi. E questo perché non le dava soldi? Perché sarei stata un po' indipendente. Ma questo lui era una persona particolarmente geloso? Era molto possessivo. Possessivo, che cosa vuol dire? Era una cosa maniacale proprio, geloso anche di una qualsiasi cosa. Tipo? Una parola con vicino di casa, una vicina di casa, una battuta, qualsiasi cosa. Perché secondo il suo cervello, se io mi mettevo a ridere con la vicina di casa, davo modo e pensiero che magari mi convinceva a vedere cose che non... Quindi lei praticamente aveva difficoltà a parlare con i vicini di casa. Esatto. La mia vita si doveva solamente in casa, nelle quattro nuova di casa, con tutti questi figli che poi con gli anni sono venuti man mano, tutta lì. I bambini come reagivano di fronte a questa cosa? I bambini sono vissuti, i primi tre sono uguali di età, perché i primi due sono vicini. I primi tre l'hanno vissuta in maniera diversa dagli ultimi due. Sopportavano, sopportavano a tante cose, perché soffocavo io. Ma il suo marito era autoritario anche nei loro confronti? Esatto. Quindi era una specie... Tipo? Un padre padrone. Un padre padrone. Esatto. Questa gelosia, questo possesso che lei ha subito, qualche volta ha strabordato un po' anche in violenza fisica o minacce di violenza fisica? No, no, violenza fisica. E come si è manifestata? Sono stata picchiata anche quando ero in gravidanza. Per delle cose banali, perché magari mi ribellavo, rispondevo su cose che vedevo giuste e non potevo, perché dovevo solamente sottostare proprio ai suoi ordini. Spengere il trivito dalle nove, non muscare ascoltare musica, se magari facevo un bagno fuori dall'orario era tipo nel senso che dovevo prepararmi per qualcuno, era così. Ma in quanti anni aveva il suo marito quando faceva queste cose? Due anni più di me. Quindi praticamente la stessa generazione, la stessa cultura. Esatto, sì. Era di Via Reggio anche lui? No, era di Porto Impedocle, siciliano. Ma lei pensa che questo gli arrivasse dal fatto che fosse siciliano, oppure andava bene al di là delle sue origini, diciamo, regionali? Secondo, la cultura è quella, perché il padre era come lui. Quindi era una questione di famiglia, più che di regione, insomma. Di famiglia. Lei ha conosciuto il padre? Certo. La madre? Certo. E loro come si comportavano nei confronti del loro figlio che faceva violenza nei confronti della propria moglie? All'inizio, quando lamentavo questa cosa con i suoceri, mi davano ragione. Le brontolavano, perché anche il padre... Quando poi mi sono separata, che ho fatto le prime denunce, mi sono trovata contro. Ecco, ma lei si è separata, ha preso l'iniziativa finalmente di... Perché la picchiava anche queste cose qua. Non è andata mai dai carabinieri? Mai, no. E come si è decisa ad entrare alla casa delle donne? Come a bussare a questo campanello? Che cosa è successo? Qualcuno gli ha detto che c'era questa casa? Mia sorella. Mi ha detto di andare alla catella della Marco Polo, sono venuta una mattina... Lei è partita da sola, è venuta qua? Sì. Era ancora sposata? Sì, sì, sì. Era sposata. Sono entrata, ho trovato l'avvocato che mi ha seguito. Ha trovato un avvocato che l'ha ascoltata? la prima denuncia, sì. Automaticamente, poi dopo sono arrivata qua, sono venuta con la psicologa, con le persone che c'erano che mi hanno aiutato molto e dopo la prima denuncia che ho fatto, ho fatto anche tutte le altre, senza problemi. Quindi qui ha avuto un'accoglienza anche di tipo legale? Ma la casa, che è successo quando lei si è separata, che c'è la separazione, è andata da qualche altra parte? No, io sono rimasta a casa mia, l'ho tirata fuori di casa, con tutta la roba. E' stata molto energica allora? È stata molto energica? Sì, sì. L'ho buttata fuori di casa e lui è andata a abitare con i suoi genitori, però lui non si arrendeva al fatto che non non stava più a casa, quindi ogni giorno, proprio ogni giorno, ho subito dello stoio, quindi non è indifferente. Ma questo, dopo che l'ha cacciato fuori di casa? Sempre nel 2005. Cosa faceva lui? Mi seguiva a scuola, nei parchi giochi, veniva sotto casa, spaccava le porte, mi ha spaccato la macchina, di tutto. Mi ha picchiato per la strada, da tutte le parti. E ogni volta che mi faceva qualcosa, io un perterra che mi rialzava, andavo al comando dei carabinieri e facevo la denuncia. E i carabinieri? E lo arrestavano, è stato arrestato la prima volta a novembre, ha fatto un mese di custodia cautelare a Lucca. Un mese scusi? Custodia cautelare a Lucca, a San Giorgio. è stato rilasciato ai domiciliari e a gennaio evaso, l'hanno rimesso dentro un'altra volta. Come uscivo fuori, che mi infortunava, perché io magari ero a un parco giochi, normalmente, io denunciavo. Ritornava dentro e uscivo fuori, rifacevo la solita cosa. E io sempre denuncio, sempre, sempre. Ma questa è venuta, la forza che ho avuto io, l'ho trovata qua, perché se non venivo qua, non lo so, gli dico la verità, perché nessuno mi spingeva a fare una cosa del genere in casa, capito? Venendo qua, invece ho trovato sia il mio avvocato che le psicologhe che mi hanno dato una mano. Non mi sono sentita più sola, praticamente, capito? Mi sono sentita vattata. Suo marito adesso dov'è? È morto. Nel 2010 lui è morto. Il nostro corso è morto.